Ben tornato Goodyear, ben tornata Andiamo avanti nella descrizione del pannello di controllo Ora diventerai internazionale perché ti parlerò della sezione Paese e Lingua A cosa serve? Naturalmente a modificare il formato di visualizzazione delle date, delle ore, delle valute, numeri e misure del sistema operativo In questo modo potrai adattare la visualizzazione dei dati e dei parametri agli usi che più preferisci e naturalmente correlati alla nostra nazione Potrai inoltre modificare il layout della tastiera, la configurazione dei tasti cioè la corrispondenza tra ciò che è scritto sui tasti della tastiera e di caratteri che verrai visualizzati quando premi gli stessi Infine anche la lingua utilizzata da Windows come interfaccia verso l'utente ossia verso di noi in modo da rendere comprensibili le procedure guidate le finestre di dialogo, i menu e quant'altro emana il sistema operativo come accetti naturalmente tramite il pannello di controllo e il pulsante Paese e Lingua Una volta aperta l'unità trovi le seguenti sezioni Formati, Località, Tastiere e Lingue, Opzioni di Amministrazione Nella prima sezione Formati trovi la sottosezione Formati nella quale potrai selezionare la lingua ed altri parametri che successivamente nella parte pratica visioneremo meglio Puoi scegliere, come detto, i formati di data ed ora La scelta può essere per valori brevi o per valori estesi In base al tuo piacere seleziona questi valori dai menu a tendina a scelta Inoltre è presente la possibilità di selezionare quale considerare il primo giorno della settimana naturalmente suppongo lunedì In basso trovi gli esempi di visualizzazione in anteprima delle scelte che avrai selezionato in modo da renderti conto man mano di cosa imposterai e anche i pulsanti che ormai ben conosci per accettare o rigettare le impostazioni Cliccando sul pulsante Impostazioni aggiuntive si aprirà una ulteriore e cospicua sezione per personalizzare il formato dei numeri, delle valute, delle date e dell'ora Troverai sempre dei menu a tendina con i quali potrai scegliere a piacere il tuo modo di visualizzazione Per i numeri potrai selezionare quanti numeri visualizzare per il formato decimale 1, 2 o 3 in modo da raggruppare i numeri che compongono una cifra come rappresentare i numeri negativi se anteporre o meno lo zero iniziale di un numero e altre impostazioni Il pulsante Reimposta che tra l'altro è presente in ogni sezione riporta tutti i valori di questa sezione e di quella delle altre sezioni di personalizzazione al formato standard definito dalla Microsoft Per la valuta seleziona il simbolo dell'euro o del dollaro il formato per i valori positivi e negativi il numero di cifre decimali e il tipo di raggruppamento dei numeri Le altre due sezioni, ore e data, ricalcano le possibili scelte che abbiamo descritto qualche slide precedente C'è in più una piccola sezione dedicata a come devono essere interpretate le date scritte sulle due cifre riferite ai decenni su un arco temporale di 100 anni Supponiamo di impostare il numero 13 in base all'arco temporale dei 100 anni che avrai selezionato potrà corrispondere questo 13 o al 2013 o al 1913 Località naturalmente semplicissimo seleziona, se già non predisposto, Italia Inoltre potrai anche tramite il pulsante posizione predefinita selezionare altri parametri relativi al tuo logo questo può tornare utile per i programmi che avrai eventualmente installato sul sistema operativo e che necessitano di informazioni dettagliate per quel determinato servizio in base a ciò che ti fornirà quel determinato programma Tassare lingue in pratica ti permette di cambiare la tastiera ossia gestire il layout della tastiera stessa quanto detto in precedenza Tramite il pulsante potrai accedere a questa sezione ed impostare l'una o l'altra tastiera o eventualmente aggiungerne altre Nelle nuove finestre trovi quindi la possibilità di scegliere il modo di input dei tasti digitati sulla tastiera che avrai installata La successiva sezione ti permette di nascondere rendere mobile o ancora ancorare alla barra delle applicazioni la barra della lingua ed eseguire altre selezioni relative alla stessa L'ultima sezione gestisce le impostazioni avanzate dei tasti relative alle scelte di questa sezione quindi relativa agli input e alla tastiera Per quel che riguarda l'ultima sezione di questa interfaccia puoi evidenziare o copiare quindi impostare i parametri delle impostazioni internazionali che hai scelto lingua di visualizzazione, input, formato e località per l'utente corrente a Windows che probabilmente sarai tu oppure per i nuovi account o per la schermata iniziale quando si avvia il sistema operativo cosa che naturalmente già avviene inoltre una specifica selezione è relativa alla possibilità di impostare la lingua ovviamente italiano per i programmi che non utilizzano una codifica chiamata Unicode che serve per rappresentare caratteri, numeri e lettere nella visualizzazione dei vari testi inoltre andiamo a vedere come cambiare le impostazioni dal pannello di controllo per quel che riguarda il paese e la lingua una volta che si apre questa sezione puoi selezionare il formato della lingua naturalmente lascerai italiano il tipo di formato di data ed ora ossia giorni, mesi e anni su due parametri e quattro sui secondi in maniera breve oppure in maniera estesa a secondo di quale dei menu che andrai a scegliere potrai anche alternarli in base alle tue volontà e alle tue abitudini stesso discorso per l'ora se impostare i parametri ora breve o ora estesa in base a questi due menu e selezionare il primo giorno della settimana qui in questa sezione puoi avere delle rappresentazioni di quelle che sono le attuali selezioni come puoi vedere in tempo orale avrai la possibilità di cambiare questi parametri tramite il pulsante impostazioni aggiuntive si aprirà una nuova sezione che ti permetterà di cambiare alcuni parametri altri come vedrai saranno imposti tipo le cifre decimali il tipo di raggruppamento il simbolo naturalmente da utilizzare per i numeri negativi sarà il meno il formato dei numeri negativi a secondo del tuo piacere quanti zeri impostare davanti alla prima cifra oppure eliminarli e altri parametri relativi alla visualizzazione nella sezione valuta potrai scegliere se rappresentare i soldi con la valuta euro o dollaro il formato dei valori positivi o valori negativi per quel che riguarda questa stessa valuta il numero di cifre decimali che naturalmente è conveniente lasciare per 2 e simbolo di raggruppamento che però come puoi ben vedere è ben definito il pulsante reimposta riposizionerà tutto ai parametri standard dopo una richiesta per quel che riguarda ora e data avrai una ripetizione di quanto visto nella precedente sezione iniziale la sezione località permette naturalmente di impostare se non lo fosse già la località corrente oppure impostare in una nuova sezione del pannello di controllo altri parametri che ripeto possono tornare utili ad alcuni programmi che necessitano di questi parametri la sezione relativa a tassiere lingue ti permetterà di cambiare il layout di tassiera scegliendo magari quella statunitense quella italiana oppure aggiungendone di nuove se ne avessi la necessità la sezione barra della lingua permetterà di di nascondere la barra della lingua oppure ancorarla alla barra delle applicazioni o renderla mobile sul desktop o realizzare altre modalità di visualizzazione in base alle tue necessità come puoi vedere in questo caso la barra compare in alto a destra ma in base a quanto selezionerai avrai cambiata la modalità di visualizzazione della stessa l'ultima sezione è relativa alle impostazioni avanzate dei tasti ad esempio per quel che riguarda le maiuscole e minuscole puoi digitare le lettere maiuscole normalmente premendo il tasto bloc maiuscolo e quindi tornare al minuscolo ripremendo questo stesso tasto oppure semplicemente premendo il tasto maiuscolo per tornare a una visualizzazione minuscola oppure scegliere quale sequenza di tasti ti permette di cambiare il layout di tastiera o quello già impostato oppure magari scegliendo una sequenza di tasti ben definita in base a quanto vorrai selezionare l'ultima sezione del paese lingua è opzioni di amministrazione che ti permetterà di copiare le impostazioni selezionate internazionali per l'account utente attuale che sarà naturalmente il tuo e qui ne hai una rappresentazione oppure copiare queste impostazioni nella schermata iniziale e dell'account di sistema oppure se dovessi creare nuovi account utenti selezionando l'uno o l'altro segno di spunta infine quest'ultimo tasto ti permetterà di selezionare quale impostazione scegliere per i programmi che visualizzano un testo ma sono privi del supporto di codifica di numeri letteri o simboli chiamati Unicode terminiamo questa rapida lezione e ci vediamo la prossima per nuove informazioni sul pannello di controllo ora come sempre un forte saluto ciao a presto da Carlo e alla prossima ciao a presto ciao a presto ciao a presto